Il monastero di Visochi Deciani, perché è così che si chiama l'esattezza del monastero di Deciani, è della terminologia utilizzata da tutti quanti i serbi che ritengono questo monastero uno dei simboli della loro nazione, del loro paese, è protetto dagli italiani sin dal 1999. Gli italiani sono schierati qui in Kosovo nel 99, dopo la risoluzione delle Nazioni Unite del 1244, insieme alla Nato per garantire la stabilità del paese. Il monastero di Visochi Deciani, insieme ad altri 8 siti di regioni sensibili, è stato protetto dalla Nato per tutti quanti questi anni. Ad oggi l'unico sito ancora sotto la protezione della Nato è il monastero di Visochi Deciani. Lì gli italiani costantemente da ben 15 anni garantiscono la vigilanza.